Marco Marcoline, lei dice che non vuole lasciare aggrigento in mano alla mala politica, che cosa intende? Beh, intendo dire che oggi chi è candidato sindaco, a parte sottoscritto, rappresenta proprio tutti quei scenari che ci sono succeduti negli ultimi 30 anni e ognuno di loro ha il referente, uno è il candidato di Alfano, l'altro è un candidato di altri deputati, l'altro è un candidato, cioè praticamente hanno tutti qualcuno alle spalle della vecchia politica e di chi ha la responsabilità di aver lasciato aggrigento scivolare all'ultimo posto. Credo che oggi questo sussulto di orgoglio lo posso dare io con la mia lista, anche se tutti dubitavano della mia presenza, che io potessi finire questa lista e potessi scendere in campo con noi con Salvini. Ecco la dimostrazione che quando uno si impegna, quando c'è l'impegno, quando c'è la dedizione, quando c'è la costanza, e allora dico semplicemente che io non lascerò in mano aggrigento alla mala politica, tant'è che mi sono messo anche capolista perché io non voglio neanche abbandonare chi ha avuto fiducia in me e chi ha messo la faccia con tanto coraggio al mio fianco. Da chi è composta la sua lista? Ma nella mia lista ho messo tre assessori, la Giuse Alba, la Margherita Biondo e Fabio La Felice. Tre persone, tre persone totalmente diverse tra loro, una è una professionista seria, affermata, in aggrigento, vuole molto bene la sua città ed ha grande qualità ed esperienza sia nei bilanci che in ciò che sono le situazioni economiche di cui questo comune ne ha molto bisogno. Fabio La Felice è una guardia costiera, una persona che conosce molto bene tutte le dinamiche dell'immigrazione e credo che sia veramente utile a questa amministrazione. Margherita Biondo credo che non abbia bisogno di presentazioni, 15 premi internazionali. Credo che se devo avere qualità in questa lista e soprattutto competitività, credo che non ce ne sia per nessuno. Devo dire che ho anche un orgoglio, ho due donne, non due donne di rappresentanza, ma due donne capaci per intelligenza e anche professionalità. Quindi gli uomini sono altrettanto capaci per intelligenza e capacità, non sono state scelte le persone per la loro bellezza o per altre cose, sono state scelte per le loro attitudini e perché sono gente del popolo, della comunità e che vogliono bene proprio ad Agrigento.